Dove è nascosto? Dove è nascosto? È una bella frase, e anche adesso Beh, pensiamoci bene però, Nudels Ci chiederanno di entrare con loro, i vantaggi sono enormi Che problema? Nessuno Un gioco da ragazzi Eccole qua, i quattro cavaliere dell'apocalisse Cos'è? È un sogno È un sogno che ho avuto per tutta la vita E ti giuro, Nudels, che io e te insieme possiamo farlo avvenare Oggi hanno chiesto a te di fare fuori giù Domani chiederanno a me di fare fuori te Se questo sta bene a te A me non mi sta bene Maxi, dove vai tu? Vengo anch'io a ricordatelo Io dovrei proprio morarti Vengo anch'io a te